ciao a tutti e bentornati a pillole di storia combo pitalia oggi iniziamo la settimana con una pillola che forse sarebbe dovuto uscire venerdì non fosse che venerdì c'era lucronia e l'impero romano d'occidente viene prima sempre di qualunque cosa ma lasciamo stare la pillola di oggi infatti è dedicata a due donne non solo perché la festa della donna ma perché la storia di queste due donne mi ha colpito tantissimo devo essere sincero fino a qualche giorno fa non ne sapevo assolutamente nulla devo ringraziare due utenti di bop italia in realtà due moderatori scrivono anche sul sito cioè idar e yuri per avermela fatta scoprire è una storia molto particolare e in realtà poco conosciuta perché mostra due donne non solo farsi valere nella storia cosa che peraltro è avvenuta per centinaia di migliaia di donne ci sono un sacco di pillole dedicate a donne se andate a vedere nelle ultime 150 ma perché queste due donne si sono fatte valere a tal punto da diventare eroine nazionali in un campo cioè quello militare che di solito soprattutto per le popolazioni più antiche era maggiormente ad appannaggio degli uomini la storia delle sorelle trung questo sono il nome delle due protagoniste è una storia di due eroine che sono ancora oggi considerate due eroine nazionali in vietnam per capire un pochettino la loro storia bisogna fare un salto indietro di quasi due millenni perché ciò di cui vado a raccontare avvenne nei primi 50 anni in particolare tra il 40 e 43 dopo cristo appunto nei primi 50 anni del primo secolo all'epoca il vietnam non era una nazione autonoma era stata infatti invasa e conquistata dai cinesi all'epoca la cina era governata dalla dinastia han se volete una piccola conistola della dinastia han vi rimando alla pillola numero 100 quella dedicata appunto al 100 dopo cristo in cui ripercorro due parole proprio della dinastia bene all'epoca il vietnam era dominato appunto dai cinesi che avevano conquistato in seguito una battaglia nel 111 avanti cristo quindi era circa 150 anni che era sottoposto all'autorità cinese i cinesi avevano sostanzialmente diviso il territorio in nove prefetture nove territori governati da dei governatori locali che facevano capo a un unico governatore che si trova in una cittadina situata all'incirca vicino all'attuale a noi da lì cinesi governavano il vietnam secondo quello che dicono le fonti cinesi con mano illuminata portando la civiltà dell'impero di mezzo secondo quello che dicono invece le fonti vietnamita vietnamiti con un pugno di ferro perché non solo imponevano il loro dominio le loro tasse ma cercavano anche di imporre la propria cultura e la propria religione portando il buddismo il confucianesimo tutte cose che all'epoca in vietnam non esistevano e cercando sostanzialmente di trasformare la colonia tra usire vietnamita in una parte della cina ora all'epoca ovviamente vi erano dei moti di ribellione che però tendenzialmente la cina era sempre riuscita a sedare senza che senza doversi mai ritirare dal vietnam le cose però nel 40 dopo cristo cambiarono e non cambiarono grazie a degli uomini ai governatori che si ribellarono ma cambiarono appunto grazie a due donne le sorelle trunghe erano figlie di un prefetto locale di insomma un uomo vietnamita ovviamente che però faceva parte della macchina amministrativa dell'impero cinese quest'uomo che sicuramente aveva delle buone possibilità economiche le aveva fatte studiare non solo ma le aveva addestrate nelle arti marziali e aveva insegnato loro l'arte della guerra l'arte di condurre uomini condurre eserciti contro il nemico la più grande delle due sorelle che si chiamava trung trac mentre la più piccola si chiamava trung ni era andata in sposa ad un uomo anche gli vietnamita che aveva delle ascendenze negli antichi principi che un tempo avevano governato la zona locale tisak che era questo il nome dell'uomo aveva riunito intorno a sé tutti coloro che si opponevano al dominio cinese perché probabilmente era un uomo che non solo vantava queste ascendenze ma aveva anche delle ottime capacità comunicative e di guidare le persone per questo era stato fatto catturare con l'inganno dal governatore cinese di Hanoi per intenderci che l'aveva fatto decapitare la cosa però non aveva decapitato la rivolta che dal 40 dopo cristo in poi verrà guidata proprio dalla vedova da trung trac che unita insieme alla sorella riunirà un esercito per scacciare i cinesi trung trac e trung ni inizialmente ebbero delle difficoltà a convincere gli uomini ad unirsi nella loro rivolta per questo il primo esercito che composero venne fatto principalmente da donne che combattevano per vendicare mariti figli che erano stati uccisi proprio dai cinesi combattevano in un modo che i cinesi avevano difficoltà a contrastare utilizzando moltissimo gli elefanti che erano già utilizzati in vietnam ma che i cinesi solitamente con loro esercito non usavano le prime vittorie portarono dalla loro praticamente quasi tutte le città del vietnam quanto meno delle della parte nord del vietnam tanto che si dice che ben 65 città ovviamente uomini le donne compresi si unirono a loro nella nella rivolta ora l'esistenza delle sorelle trung è sostanzialmente storicamente accertata perché vi sono delle fonti sia vietnamiti che delle fonti cinesi di cui addirittura la più antica è datata al quinto secolo dopo cristo è un racconto una cronaca proprio dei primi due secoli della dell'attuale datazione dedicati alla cina cioè la storia degli ultimi imperatori one quindi insomma la loro esistenza è storicamente accertata ma il modo in cui si svolsero i fatti presenta due versioni uno che è quello tradizionale vietnamita e uno che rimanda invece proprio alle cronache cinesi io ve li presenterò entrambi ora secondo i cinesi la ribellione delle sorelle trunghe ebbe scoppiò non tanto per questi avvenimenti che vi ho narrato quanto perché il governatore locale appunto di a noi era un uomo corrotto non in grado di guidare il vietnam che addirittura quando scoppiò la ribellione la lasciò scoppiare lasciò che esplodesse senza fermare in alcun modo il risultato fu che quando la ribellione era mai cresciuta i cinesi non avevano in loco forze sufficienti per poterla contrastare preferendo quindi ritirarsi verso nord la versione invece vietnamita dice che i vietnamiti riuscirono a sconfiggere l'esercito cinese ricacciandolo a forza verso nord entrambe le due versioni però raccontano che dal 40 al 43 dopo cristo dopo la vittoria o dopo il ritiro dei cinesi le due sorelle trunghe riuscirono a costituire un regno del vietnam autonomo che sostanzialmente governava su tutti i territori che avevano liberato ora secondo alcune versioni questo racconta un origine matriarcale del governo in vietnam ma quale che sia la versione reale in quello che ci rannarono le cronache vietnamiti delle leggende vietnamite e che questi tre anni furono sostanzialmente un'età dell'oro del vietnam che da più di 50 anni non conosceva alcuna forma di autonomia che invece tornò a rifiorire e a ripristinare le antiche usanze e religioni locali nel 43 dopo cristo però l'imperatore cinese decise di mandare un suo generale e un esercito a riconquistare vietnam a capo della spedizione mise un generale molto anziano ma anche molto molto abile mai juan che aveva già combattuto nel nord contro gli antenati dei mongoli e degli unni che controllavano l'attuale mongolia peraltro riuscendo ne vincitore mai juan non era solo molto abile nel comandare di uomini ma era un buon diplomatico ed era molto abile nelle questioni di gestione dell'esercito dovete pensare che portare 10.000 uomini in un territorio comunque non controllato come poteva essere quello vietnamita all'epoca era molto difficile necessitava di risorse necessitava di cibo di armi di cariaggi qualunque cosa ed egli era molto abile proprio nella gestione di questa parte dell'esercito secondo quanto dicono le cronache cinesi quando mai juan rientrò in vietnam si trovò di fronte un paese che non era pronto ad accoglierlo le due sorelle cercarono di raccogliere l'esercito ma ben presto si resero conto che le loro forze erano troppo deboli per poter contrastare quelle cinesi il risultato però almeno questo dicono le cronache cinesi fu che gli uomini che accompagnavano le due sorelle videro questo come un segno di debolezza e quindi decisero di abbandonarle lasciandole sostanzialmente sole alla morte secondo alcune versioni vennero infatti catturate alcune di cui lo dicono dagli stessi loro stessi uomini portati di fronte a mai juan che le fece decapitare secondo altre versioni invece mai juan principalmente versioni cinesi le perdonò e di lordi e quell'omento in poi si perse la traccia secondo altre versioni invece decisero di suicidarsi lanciandosi da una cascata proprio nel fiume rosso la versione vietnamita invece ben diversa secondo la versione vietnamita invece le forze del vietnam diedero battaglia a quelle cinesi nonostante fossero in netta inferiorità numerica in avanguardia a combattere vi erano peraltro proprio le donne le prime ad aver accompagnato le due sorelle perché le due sorelle speravano che il loro coraggio avrebbe dato valore a tutti coloro che li seguivano ovviamente uomini compresi si narra che addirittura una di queste donne uno dei capitani dell'esercito delle sorelle trung fosse in quel momento incinta che avesse addirittura partorito per lo sforzo della battaglia ma avesse preferito uccidere il proprio figlio per non essere intralciata nel proseguo dei combattimenti secondo una leggenda la vittoria cinese non venne grazie al loro numero né al valore del loro generale mai yuan ma venne grazie a uno stratagemma perché mai yuan sapendo che le donne avrebbero combattuto in prima fila mandò contro di loro dei soldati nudi e l'aver visto questi uomini nudi avrebbe fatto arretrare un po' di orrore un po' di vergogna alle donne che avrebbero preferito non combattere sostanzialmente facendo collassare tutto l'esercito vietnamita è ovviamente una leggenda tra l'altro pronto probabilmente molto posteriore ma quello che anche le leggende vietnamite dicono è che nonostante il valore delle donne nonostante il valore degli uomini del vietnam la battaglia fu persa dalle sorelle trung che furono costrette a fuggire verso il verso le foreste qui secondo i resoconti appunto vietnamiti le due sorelle preferirono suicidarsi un po' come alcune leggende cinesi dicono piuttosto che cadere vive nelle mani dell'invasore ma una di queste leggende dice che quando le due sorelle si gettarono nel nel fiume vennero tramutate in statue queste statue vennero prese dai contadini e vennero poste in un tempio a loro dedicato da cui dopo un momento in poi proteggono i vietnam dagli invasori in realtà se queste statue vi sono o vi furono sicuramente non protessero vietnam negli anni successivi dopo il 43 dopo cristo la seconda conquista cinese del vietnam il vietnam viene sottoposto nuovamente al rigido controllo della cina questa volta le fonti tendono abbastanza a concordare che di fronte alla prima ribellione i cinesi reagirono cercando di spingere a una cinesizzazione passatemi il termine forzata sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista religioso cercando sostanzialmente di convertire se non tutti i vietnamiti quantomeno loro classi alte in cinesi d'adozione per così dire per cercare di imporre proprio dominio e scongiurare il rischio di future ribellioni future ribellioni che ci saranno e col tempo porteranno nuovamente alla libertà del vietnam vi ho parlato di un tempio secondo la leggenda dove vennero messe le statue delle due donne bene in realtà sappiamo per certo che fin dal sesto secolo quindi in realtà molto molto tempo indietro quasi 14 secoli fa iniziò l'adorazione delle due delle due eroine delle due eroine nazionali proprio come protettrici del vietnam un'adorazione che sotto alti e bassi continua ancora oggi tanto che vengono tenute molto spesso delle sfilate vi sono dei quadri che le ritraggono molto spesso in elefante vengono considerate ancora oggi delle eroine protettrici del vietnam vi lascio con un ultimo pensiero esiste un'interpretazione della versione cinese del racconto secondo alcuni questa versione cinese secondo cui le due donne sarebbero state abbandonate dagli dagli uomini nasce da un'errata interpretazione di un poema vietnamita in cui sostanzialmente si dice che i vietnamiti combatterono con in senso come dire con le donne ma lo fa con un termine che sembra quasi dispregiativo il fatto che i vietnamiti facessero combattere le donne quasi come se nel vietnam di allora che invece alcuni vedono addirittura da questo racconto come una una società con una forte componente matriarcale bene come se nel vietnam di allora le donne venissero tenute lontane dalla guerra secondo un'interpretazione maggiormente accettata oggi invece la frase originale del poema voleva dire tutt'altro e deriva da un modo di dire tipico di quelle zone secondo cui quando la situazione è veramente disperata allora anche le donne prendono le armi per combattere insomma come dire che la vergogna non fosse per essere state comandate dalle donne ma la vergogna fosse di essere arrivati al punto da dover far combattere anche le donne perché quel punto era veramente disperato bene con un po di ritardo spero che questa pidola vi sia piaciuta io vi saluto se vi piace tutta questa pidola lasciate un mi piace iscrivetevi per vederle altre noi ci vediamo domani domani parleremo di seconda guerra mondiale io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie e storie incredibili storie fantastiche che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pidole di storia quindi curiosate venite sul forum di pop italia a discutere di storia noi ci vediamo domani con un'altra pillola a domani ciao ciao